all my friends anna è già iniziata eh direi c'è anche Putin no no non c'è Putin Vladimir no non c'è no no non c'è vladimiro sono tutti dei turchi bisogna fare c'è di nuovo grande uno di voi siete in tre giusto a giocare in quattro quanti ne siete? cinque uno si chiama Gump uno era lì uno si chiama uno Renzi e uno Mazzarella eh ma Renzi lo era un tempo porco dio ce n'è uno forte bravo fallo entrare in casa dai eh fallo entrare eh è stato lui a non farla entrare mi avete rubato la tec eh la volevo anch'io no ma scherziamo figurati no dark gang si bel nico ficul ficul chi sei? ciao oddio ah ok è Sousuke l'uomo che suga una sola B che lunga che lunga si per arrivare smoke in mid smoke smoke ok io ne ti riuso lunga non arrivano per ora ti piace stare farmi no 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 sto ascoltando lunga non sto cioè sto facendo un era mito ok ora io entro lunga facciamo il panino un'erampe donald trump l'ho preso in faccia lunga e pulito cosa? no io ho fatto quale ma l'hai preso in faccia è caduto il quarrucchino no perché c'era bello saldo no perché gliel'hanno trappiantato il pelo di carne trappiantato trappiantato lo sconci con la di più di ora è mercoledì marco dobbiamo mettere tutto a posto che ci prepariamo a fare le grandi live poco poco quindi secondo me in dieci minuti ce la facciamo il viola mi dà la bomba è mello di una sinistra guarda che bellina bella porte che lagga porte che lagga dritto in fascia è entrato site un altro forse porte che laggava attenti bravo piantiamo sta bombetta pianta pianta tu nel uno sembra sembra di me una offesa piantala e piantala e quando ci vuole ci vuole paura graffa sicuro scuola il punto è il punto è scarsa vabbè vabbè già lo sapevano tutti però dai dici ma che lo dicevano che poi si offende sempre scarsa tanto non risponde si offende non è niente sentito ma perchè sono due roller e susuke sono unranked hanno fatto sette competitive per ora quello che basta per questo gioco è ficul ah c'è la vp no non ci credo uno si è bruciato da solo uno è mid 70kp short ne ho ucciso uno il kevlar seba che brutto vizio l'avevi ucciso quello lì eh un altro c'è un altro uno è lunga c'avrà la k di seba andate b veloci b veloci b vai wesley pushamela come se non ci fossero domani io ti faccio l'anno vai 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 si chiudi nelle acco qualcosa cioè posso controllare libera libera ah buono ci abbiamo però si può per ora rolle camperati non piccare state un accucciato lì di non ho plantato eh fai come rolle se non ti abbiamo visto wesley tu guarda il tunnel e siamo a porto però tu hai lui lì con la vp marco ti vedo male e' un'ecitiva vp guarda al tunnel wesley guarda al tunnel non ti posso fare dei mid c'è rolle che è stato flashato e l'anno ucciso guardando window eh ah no è quello che uno passa anche da tunnel una porta e uno tunnel sicuro? si perchè stava passando da mid lo scopriremo eh te l'ha detto eh uno tunnel però hai vinto mettiti nell'angolo vai 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 a destra a destra a destra sparalo 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 ma figlio di una troia sparalo cazzo tenevano due vp al quarto round eh meglio hanno perso anche sparalo ora mi mostra guarda su un cazzo con la vp è l'importante che ti prendi il cazzo di kevlar eh 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 perchè prima non ci morivi sapevi il kevlar ti mochiava perchè nel momento in cui ti hanno sparato e tu non avevi i kevlar guarda ti è venuto il parkinson si 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 guarda 3b sono cosciente madonna signore scusa che cava quella che hai fatto in mezzo come cazzo l'hai fatta non lo so ho sparato ho sapevo che più o meno era lì ho sparato una è lunga madonna mia porca puttana no no non venite non venite c'è una vp è appunto è stato fortunato perchè non era quello non è entrata lunga non è entrata lunga eh si ho avuto anche fortuna certo ci vuole anche quello in entrata pit pit 1 fatto no 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 andate con la bomba lunga vai via vai via vai via vai via ok andate via andate via andiamo via andiamo via non è lunga quindi che vada ce n'è uno b ma se voi siete in 3 ok risolto giustamente lo devo trovare io con la pistola di merda io vado ci sentiamo domani se ci sentiamo ciao ciao l'ultima è la e lascialo lì bravo cosa ora si salva la vp anzi mi prende me smocca porte rolle smoccale sono già smoccate e quando va via ah con il destro la tiri piano con il destro e tira anche un incendiario in tunnel magari rendi sicuro il site bravo mira con la vp ti darei un bacino rolle ma non posso sei distante facciare tunnel un secondo è il campionato dello spa si salta eh mi direi che salto no lei ha meno vita almeno dico ah no no guarda dopo 1500 ore no? devo dire che non non ci ho mai trovato vabbè tanto quali sembra la vicina l'unica cosa che cambia leggermente è se ti giri di faccia rispetto alla schiena è l'unica cosa che realmente cambia una uno due cosa una vp mi serve una pistola a sti punti devo comprarla in fretta occhio occhio non c'è cosa peggiore che morire all'inizio del round e dove la so ancora aspettare ah rolle sei partito proprio ah lui vado lunga 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 l'ho preso in testa vai rolle vai come se non ci fa son domani da dietro da dietro rolle state nè lì non farti vedere da dietro ce n'è uno ce n'abbiamo anche uno arriva morto ce n'è anche due due saeta porco dio dicevi caro arriva 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 mi hanno fesciato oh no 2 lunga 2 lunga 2 lunga 2 lunga vai b vai b b pulita b pulita ultimo lunga ma ho preso da dietro no perchè è l'ultima lunga no no non parlo ahahah posizione tattica non ti cherei mai uno che è già più fortino da parte vino è tanto è scarso eh vabbè quello ci sta e se mi arriva a tunnel mi fa era lunga correva verso A quindi dovrebbe essere mid e no e e e ho paura scendo no 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 è arrivato mid eh si se eri giù morivi bruciato mi prendi il fucile marco lo vuoi? non fa schifo è meglio la k ma mi piace quello lì era sulla finestra è lm4u è più controllabile più che altro si esatto l'unica una delle poche armi che non ha lo spray più o meno per iniziare uffa vinciamo sempre eh stavolta non mi freghi pizzo anche Erdogan nooo attenzione dichiarazione di guerra su CSGO incredibile ragazzo ho una qua sotto ah è morto o no? ok io vado via ve lo lascio esce dalla viola sto attento viola ok Trump ha dichiarato guerra bravi a Erdogan vabbè quello dichiarai sempre metterà pericola al mondo ma non poco se vuoi plantarla per short ci sta ma la planta per lunga una short che mi piace la lunga è lunga via va bene viva bravo occhio che no ok vai pure lunga la prima cosa che mi tanto è già sottota vieni siamo fresciato da su tieni ovino beca ti sta flash nooo sono col coltello dai passa piccolo lazaro piccolo lazaro lazaro alzati a cammino nooo è lunga Donald Trump è con la vp sta attento non affacciare non affacciare è con la vp non c'è problema te l'ho anche salvato sebastiano glass bella benedetta il mio nome è l'unica cosa che ho senza skin è l'unica cosa che ho senza skin uno due no due tre no non l'ho preso quindi è uno mid attento arancione uno che bravissima arancione ci muore fra tre due uno è ancora vivo strano uno è dietro la porta di sinistra una porta da punti grazie 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 no no tutto sto tempo ero un cretino lascia lunga lascia lunga lascia lunga ce n'hai uno short sebastiano bravo wesley uno è in porta di lunga vabbè ma guarda di me oh un'altra no dai nooo l'avevo fatta nooo uno è lower lower uno è short lag come lo schifo ce la farà a prendere a bomba con tutto il suo lag si non era short tre due uno no nemmeno devi andare a vedere il lag parlo un secondo eh ma lì è il pc perchè hai c56 c'hai di ping no era era 140 devi guardarti quanti fps fai con steam si può vedere si sto facendo fps 40 ora 32 eh allora sono gli fps ce n'hai troppo poche attacche dovete prendere un bel pc per giocare a stagione eh che pesantissimo moco short bella airboat vabbè tu vai lo stesso l'importante è che siamo otto un uomo in meno di trump si ma porco dio eeeh che pre fire che pre fire uno è tunnel sopra eeeh uh allora uno è b eeeh eeeh guarda che porcatamente dei cari guarda che porcatamente dei cari guarda che mi fai giro una buona casquetta a tutti esatto e l'agnello quest'ora si non è ancora più ma come si chiamava quello che ci andava sempre di coltello fammielo ma quando ma pietro tu hai pubblicato il video ah pietro lo smoothie ma che è questo eh pietro è diventato vino mi faceva troppa vino pietro suzitam pietro suzitam è che non capita spesso di trovare gente così ebete con il quale puoi fare certe cose uno è mid si sei della sua vita non lascio io mi son rubato una wg ora mi guardo rolle così gli metto pressione oooh ma che cavolo insieme gravissimi occhio a tutti c'è un altro vino bravo wesley benito ma ce l'abbiamo al site? si ce l'avevamo ok era window ma è tornato indietro tunnel non l'ho preso ma minchia cin silenzio che torrutto sto ragno che c'è qua madonna è bello che ne hanno mai fatto echo ma mi prendo sempre le armi si in effetti più che altro sai quei pochi fps giocare con una vp è un po' un po' un controsenso si ma infatti non usavo la vp perchè era impossibile cioè vedi le cose che accadono dopo eh vedi me l'ho fatto 89 ma che arma avevi la vp ah me lo vado a rubare easy armi gratis però non l'aveva visto certo che l'aveva visto non c'è più la vp sul site non sa che ce l'aveva fatto c'è una cappa ok l'ho rubato io l'ho assiste quando puoi vabbè ci vuole di gol meglio ma dai ho fatto tantano dietro vittorale planta wesley se vuoi sono nico wesley e la roncione planta roller oh porcattana io non ce la faccio ok ce l'ho fatto bravissimo roller lo vi guardo me to b bravissimo wesley e roller ah ok era già finestra bravo nico bravo nico la mia carattere che c'è qua che ha poi quello standard ah bene con lo smurf cosa c'è di elitario ne se no no linea rossa 0b 0b 1b ora poco poco ricco vabbè linea rossa capace che è pure la qpi ovvio solo una b a b è 1 e mid allora era quello che è nato B che non si è fermato però le insieme cattivi con le armi in mano però al mio 3 vai non mi è bloccato ma perché non prendi mai i kevlar seba uno era pit pit a k uno è car dovevi prenderla in mano eh ho sbagliato mi sono inchiodato su quei scatolini di me vabbè ma stai tranquillo Nico col P90 chi sproia è un cretino infatti il P90 non ce l'avevo no no parlo solo ho un'ansia adesso ce l'ho in casa da qualche parte uno B sai con le SSG? chi è questo? non so uno B solo? due ok uno uno dai ma prende sempre in te c'ha 40 di vita su short uno rush a meno allora uno è short con 30 roll è io e te 3 metri sopra c ma è Wesley ma non è roll è Wesley l'arancione Wesley hai visto? bravo cambiati arma però poi hai tutte top mid se vuoi Wesley c'hai un'arsenale dove era Marco una è lunga? no ah uno è short e a 30 di vita l'hai visto? l'hai visto? uno rush a mid rush a mid mio dio ma sei fortissimo Wesley bravissimo te devi imparare a usare no no è Marco è Marco vai 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 vieni con me vieni con me Trump era quello che era mid prima infatti è lunga lunga posto giocati il tempo puoi bruciare qualcosa tra un po' di tempo cosa Marco? ah probabilmente arriva tunnel perché sarà top mid facciamo una bella cosa tra un po' tra un po' è vabbè bravo tanto la vedo hai sentito cambiare l'arma? ma si io non sento niente non ti farò vedere si si che mori mi piace stare il ciocchino bravo Wesley comunque te Wesley se ti metti a imparare gli spari di AKM4 secondo me vieni su bene bene velocemente perché proprio si vede che miri bene tutto manca solo il controllo delle armi però la mira c'è già parecchio che quello fa tanto due due a b eh vabbè mi ho fatto uno poi che H si ma che rendi conto Nico c'era un c'era un eh lo so ma c'era ma stavo scappando per quello Russia no mid penso sono il no mid Marco ma vino fai confusione allo spango ok ah uno Russia potremmo aspettarli che Russia ne uccidiamo ok uno tunnel dai vado a morire Russia è straveloce prendi e vai eh da dietro mi ha sparato poi mi ha ucciso lui ma mi ha sparato da dietro finchè la barca va stavamo vincendo il mio pp spice no ci mancava scusate l'ultimo round si allora lo compro allora una monotor e una granata più ok te la regalo grazie ora la raccolgo cos'è sto smoke è entrato è entrato fatelo fatelo ah il bot fatte caccare schiarmà uh me la prendo io uno scout hai la bomba me lo sono ricordato dopo uh bastardo 2 son ti spawn ragazzi aiuto mi sa che è di lì ah si 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 bravo controllo io con lo scout ok occhio occhio non lo over scale giriamo giriamo ah non c'abbiamo la bomba cazzo cerca di scappare non c'è niente vabbè 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 io ho fatto 40 poi non lo so quanto gli ha fatto il giallo vuoi andare a prenderla provo venga mi ha bruciato fuori uff nell'angolo viene via appena puoi corro 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 c'ho due di vita via 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 viene via via ti copro mo non ha flash dietro il mio culo non venga la misura non venga la misura non venga la misura non venga la misura 34 dividi madonna con due dividi 30 secondi via come dei 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 col coltello in mano si va a collare si va a prenderlo nel culo più caro dai 20 19 18 non mette la pressione 10 9 no scherzo vai vai tu vai 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 nooo sto stato stupido pensavo non mi pensavo si nascondi uuuuh eh niente si grande è un deficiente sto qua è proprio frocio mi so perché si è fatto vedere è frocio stavo che in questo caso quando rimangono con te uno e manca così poco te ne vai ti nascondi e si vince perché finisce il tempo questo è il problema di molti giocatori cercano di farla kill e muoiano quando in questo gioco non è necessario uccidere per vincere si se serve usare le armi giuste al momento giusto non è non è call of duty prendi anche la più 250 wesley già che c'hai 300 che è buona io la farei staboreale che schifo no non è brutta vabbè io cosa c'ho c'ho la valenza sta tra ok rimanete vivi rimanete vivi sono tutti short uno ha 70 HP tutti tutti ok bravissimo bravo role stai vivo stai vivo stai vivo chi è sto qua andiamo lunga via 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 sono su hanno poca vita molti hanno poca vita ce la potete fare basta stare fermi e mirare bene ok ricarico vai ct probabilmente qualcuno info eh vabbè info mazza ct bravo defusate avete ammazzato tutti fai te wesley che io non mi voglio i punti mi fanno schifo e sulla bomba perfetto quando avresti comprare il kit ci metterai 5 secondi ma siccome ne siamo belli non vinceremo non vinceremo vinceremo non vinceremo 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 mio dio wesley si vuole fare vuoi uccidersi io per ora mi trovo bene con l'MP9 non so perché eh l'MP9 è carino quando gli altri non hanno l'armatura se no vabbè l'MP a vita proprio dove vanno tutti due A e due B io vado quattro io aiuto guardare le sue lunghe a prendere uno lungo poca vita a 30 di vita no 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 due lunga due lunga una 30 è la bomba non lo so è lunga dai 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 è la bomba è per questo se sono tre vanno lì non penso uno ha 28 HP perché gli ha fatto 72 con l'SSG hanno forzato e han vinto ah peccato uno è Barili magari salvati l'arma dov'era? non l'ho visto è Barili è Barili era sarebbero quali sì quali blu no vabbè una forma di Barili no ma dai io pensavo che era una forma di Barili ah abbiamo forzato ok ah lo compriamo eh ho visto che hanno forzato tutti che forza se vuoi una Deagle tanto mi alleno un po' se vuoi un posto bastardo uè sto qua eh qua dietro sono due sono due nella porta ok la sei tre tre mi to be mi to be mi to be arrivo si ma ti sparo un altro mi to be sono tutti mi to be invece mi to be un altro un altro a destra mi sembrava Wesley non so perché fossi comune CT ragazzi CT quindi dietro di te ho la bomba esatto è lì a sinistra sta arrivando l'ultimo è subito vai 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 è già subito piano cammina bello tranquillo al sinistra devi andare è del site a sinistra lì dentro sto plantando no non ho ancora plantato quando senti che plancia ok è a destra di dietro di dietro di dietro di dietro pre fire pre fire ah peccato bravo bravo va bene eh ti è andato a male avevo una k si e lui non aveva il kevlar quindi è stata rinculata quella ma mi hanno rinculato malissimo perché non portate niente che mania ragazzi poi vi chiedete perché non rancate quando abbiamo pochi soldi tutti è meglio non comprare niente o una pistoletta così da avere più soldi dopo se no si rimane dove si è nella scala dei rank doppia flash lunga short 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 arrivano tutti in massa 3 o 4 short sono già su site per via tre lunga tre lunga tre lunga una roba mi aveva un flash shell eh ma non so qua si perde sto round puoi capire vedi anche lì seba se tanto te forzi comprando la mitraglietta ma non hai il kevlar vedi che come ti colpiscono la mira ti va a puttane io ho una domanda da farti ti sembrerò critica ma lo stesso che è fra il giubbotto antiproiettili facciamo economia adesso non compriamo compriamo al massimo una pistina compriamo una P250 e basta almeno evitiamo ci salviamo i soldi per dopo perché in questo round è difficile vincere si infatti una è sui side sarà il bolt B ok mid dunk la bomba è B va bene allora se cercate di ruotare fare qualche kill l'importante questi round in eco sono difficili da vincere ma almeno ci salviamo i soldi per dopo il discorso è questo e non prende la testa molto interessante eccolo eeeh adesso che abbiamo fatto l'economia prima abbiamo soldi per poter comprare le armi quindi ci prendiamo sicuramente più giubbatti antiproiettile e poi se possiamo delle armi pesanti come l'M4 l'auto e ci siamo e questo round lo possiamo veramente vincere speriamo sono l'unico col kit di salvaroncio ma non ce l'ho provino attenti lunga ok short uno short arriva 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 ok eh ma ero un troppo da solo purtroppo mi hanno fatto sia lunga che short due suicide da short e uno era lunga uno lunga possono avere la vp erano due probabilmente short attenti lancio una granata attenti barili no attenti ghouls sight si uno è sight sarà nell'angolino lo solito angolino del cazzo delle casse giusto esatto dai bravi 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 dai 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 che c'è la smoke ora che c'è la smoke eh c'è anche la ah salvo io salvo io ho il kit anche la ho il kit vai io mi faccio vedere a posto bravi non correre seba non correre non correre l'avevi ucciso dieci volte l'avevi tu? si 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 eh ho la k vabbè chi la vuole? io io sono scarso chi ti droppo io ottima difesa ragazzi perchè le M4 non le M4 perchè meglio le M4 io ma faccio un cambio se vuoi cioè io normalmente ho quello io uso le M4 perchè ha esatto ha più colpi puoi fare prefire puoi fare tante belle cose che con le M4 1s non puoi alla fine sono B B ok è un lag gigante eh vabbè Nico erano in tanti e sparavano in tanti smoke me to be Marco mi hanno tagliato fuori io posso guardare un po' la porta vieni vieni Lollo vai eh non posso c'ho la smoke pulita una porta ok ok le porte le mid si ok vabbè due ce ne sono e scendo quando vuoi entrare dimmi aspetta aspetta smoco il site giusto dai vai 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 defusa bravissimo quando una smoke li fa andare in crisi tra l'altro era una brutta smoke perchè va nel panico non sa cosa fare dove la gente si spara siamo in due una defusa l'altro guarda perchè tra l'altro era fatta malissimo perchè io mi è picchiata in uno scalino e si è fermata lì l'unico scalino della mappa subì che non sapevo manco esistesse l'ho preso perchè a quello scalino lì non ci ho mai fatto caso giuro smoco per short ok io l'ho bruciata ora gliela smoco faccio il giro me l'ha flashata verranno short è entrato è entrato è entrato grande mi rimetto in posizione mi è libero mi è libero uno ce l'è sopra la cazzo mercoledì non ce l'ho fatto ok info io c'ho short ok bravissimi ragazzi bravi 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 ebbè direi eh basta che tiri giù mi fatti tiri giù e poi a sinistra fa un po' di allenamento ci sta l'unico che è tutto silenzioso dimmi mi senti? si si ti sentiamo ma perchè Roly ha deciso che sta partita vuole fare i culi e infatti li sta iniziando a fare io non ho B rush B rush B sono solo uno solo ah uno solo no meno due esatto due li ho visti sicuri merda mi ha lasciato eh uno M2B uno M2B 80 HP salva 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 tunnel metà HP tunnel lì sopra sopra le casse no ok dietro l'angolo vai via semmai salvati il P90 o la K prendi quella K che scegli per te e vattene quello lì lì fu grande salva 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 ma anche c'è il Neger c'è il Neger sotto i tuoi piedi anche quello lì va bene si provalo provalo è bellissimo no tieni premuto qua è una di quelle armi che devi tenere premuto lo voglio io dalla me dalla me dalla me dalla me dalla me dalla me vai pianissimo perché è buggato sto arma di me ti devi mettere dietro oh no cazzo ho fatto male i conti sono gay si no non passo da adesso che andò la WP B lunga 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 tutti lunga non è passato rampe a pochissima vita la bomba è migliata eh ma ne ho inculato malissimo c'è due short uno site salvate ah c'avete la bomba attenti a ct attenti a ct ragazzi se sono short scendono da ct fatevi furbi ragazzi vi dovete fare furbia se sono sua è ovvio che scendono ct se la bomba è meno bisogna tenerla è inutile che entra e guardate la porta se sono sua economia facciamo ecco ecco tutta la vita ecco 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 pistolette e basta esatto io prendo giù sono la qualche altra via dai passiamo tutti passi tunnel tunnel tantissimi vanno lower nooo uno l'ha coltellato nooo dietro porta dai che palle porta cava eh lo so anche da tanner finiscono c'è davanti guarda il tempo e finiscono in due anni o mezza vita infatti trampa col p90 tunnel 1 salve vabbè sei mio vabbè meglio un'arma in più che noi meno tanto roll è di nuovo in eco adesso eh sei cover bravissimo che controlli gli angoli dietro eh ct anche short non potevi farci molto quasi tu eh sono state due o tre asi e uno era mid ne facciamo no vabbè non ne facciamo altre basta compriamo si 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 me lo puoi tirare a me wesley quell'arma lì e comprarne ancora un'altra quella che hai in mano ok me la prendo tranquillo grazie l'ho tirato i roll andiamo qui la prendiamo con i denti vabbè allora io sto per tenere short lunga push tornate indietro finchè potete non morite a caso c'è una tuttia esatto per quello no short short arrivano io son morto allora passato rampe run dai ragazzi vi prego aiutatemi un altro e anche da anche da rampe ma buon figlio ma io non ti faccio bagnare nico io non mi dici mai che ti faccio bagnare ma perché con te sono abituato io comunque devo dire che l'ump lo adoro davvero tanto ma è fortissima da vicino ovvio da vicino è una bestia ok auto sniper e b non va proprio d'accordo infatti torna indietro wesley che ti flasho ti copro ah peccato vabbè una short una short una short occhia short sono due non cazzo io sto per morire tre 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 sono cazzo tre lunga via aiutatemi vi prego non è plantato eh è for sure se bastiano copri il tuo amico via 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 voglio scappare difendete la bomba state in short grande seba bravi vinta evviva un centesimo sono ricco non cazzo non cazzo